In queste ore è stata scritta una bella pagina della politica regionale, dimostrando di avere una visione di futuro da proporre alla nostra economia, con l'approvazione in Consiglio regionale della proposta di legge sull'agricoltura di precisione. Questa legge è un ulteriore step della riorganizzazione culturale e culturale della produzione agricola e per conseguenza agroalimentare, orientata a mettere a frutto, nel miglior modo possibile, l'enorme patrimonio rurale pugliese. L'agricoltura di precisione garantisce una più efficace integrazione tra l'attività agricola e l'ecosistema in cui si pratica, ad esempio, rispetto all'utilizzo degli agendi chimici o agli effetti delle pratiche intensive sull'equilibrio idrogeologico del suolo. Ne sono convinte anche le forze politiche di opposizione che hanno firmato la proposta di legge primo firmatario il Consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli. L'agricoltura di precisione, afferma il Consigliere Azzurro, punta ad innalzare il livello di sostenibilità, contenendo i costi per salvaguardare il reddito degli operatori, con un'attenzione maggiore per la tutela delle risorse ambientali, la tecnologia e l'innovazione. Il testo, divenuto legge regionale, sarà essenziale per accompagnare le nostre aziende in un percorso di sviluppo nuovo, governato e organizzato. Per perseguire tali obiettivi, la Giunta regionale ha segnato una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'esercizio finanziario 2018.